I TRIPOLI 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 Dovresti davvero smetterla di correre? Abbiamo tante cose di cui... Ok, non da quella parte. .. .. .. .. .. .. Davvero? Tre codici d'accesso diversi? Non posso entrare senza i tre codici. Grazie del codice d'accesso. Non posso entrare senza i tre codici. Non posso entrare senza i tre codici. Grazie a tutti. 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 Ok, non da quella parte. Un altro ancora e sono a posto. Non mette la carne. Grazie a tutti. 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 Ultimo. Troppo facile. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ciao. Grazie a tutti. 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 Meglio stare lontana. Meglio stare lontana dai riflettori. Ehi! Grazie di tenerli impegnati ragazzi, ci vedete! Ehi! 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 Altri riflettori... Grazie a tutti. 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 No. Grazie a tutti. Ora capisco. No. 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 Io la vera Ada Wong, non mi serve aiuto da nessuno! I miei piani non falliscono. Prosperano! E' presto. Questo fragile simulacro di società... crollerà! Dopodiché... sai cosa resterà di questo mondo? Nonne! Si scatenerà l'inferno e regnerà il chaos! E io, Ada Wong, sarò la regina del nuovo mondo! Mi spiace, ma non vali un soldo come imitazione, o forse neanche quello. Riposa in pace, Carla. Deve aver preso una dose da cavallo di virus C. Io sono Ada Wong! Io sono Ada Wong! Io sono Io sono Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. 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 Unimitazione. Sì, sono andato! Non mi torno da! Si, ci sono e non mi prendo la roba! Sì, sono andato! Sono andato! Mori! Sei un'imitazione! Mori, sassaroglia! Non sei niente! Sei così impegnata a distruggere il mondo. Ora hai distrutto il tuo corpo. Spero che fosse quel che volevi. Un'imitazione! Prendi! Grazie a tutti. Grazie a tutti.